Un protocollo di intesa tra il Comune di Vallefoglia e quello di Montelabate, da quale esigenza nasce e quali sono gli obiettivi? Abbiamo delle esigenze anche strutturali, organizzative e di manutenzione di tantissime cose in comune, come può essere le strade, possono essere eventuali ciclopedonali e comunque abbiamo le zone industriali che sono fortemente in contatto e quindi per il bene e anche lo sviluppo del territorio abbiamo deciso di iniziare questo rapporto firmando un protocollo di intesa. Spero che con la firma di questo protocollo possiamo iniziare concretamente un lavoro importante anche in previsione dei fondi che mette a disposizione il PNRR e perché vorremmo partire io e Palmiro nella sistemazione del ponte dell'Orciaia che è un piccolo ponte costruito ormai 50 anni fa e tra il Comune di Montelabate e il Comune di Vallefoglia è tenuto conto che a Vallefoglia è già stata edificata questa struttura importante, una struttura sanitaria molto importante, è giusto potenziare anche la viabilità. A oggi dopo anni e anni di blocchi, dei bilanci, con i piatti di stabilità, con il blocco delle assunzioni del personale, sia il Comune di Montelabate che il Comune di Vallefoglia si trovano comunque in un sottorganico e questi sottorganici non ci permettono poi di creare squadre importanti per creare progetti e accedere alle risorse che effettivamente vengono messe in campo anche dalla Regione. Quindi l'Unione, come poi dice anche il detto, fa la forza. In questo caso è vero perché riusciamo a mettere insieme i due Comuni, ma riusciamo a unire le forze per poter accedere a eventuali finanziamenti che da soli, almeno come Comune di Montelabate, non ci riusciamo. Un rapporto, un'intesa fra due comuni, fra due città che hanno rapporti quotidiani, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ai temi della cultura. Se penso alle ciclo pedonali, recuperando magari con una progettualità condivisa anche la vecchia Abdagna, la passarella, quella in ferro a fianco al ponte qui di Montelabate che confina i due Comuni, magari con una ciclo pedonale che va al cimitero degli inglesi e dei canadesi, oppure la linea gotica e poi insomma tante altre iniziative, il riferimento che faceva al ponte dove c'è questo investimento di coesione sociale, di civiltà smarche, che è un intervento privato, ma è convenzionato col Comune di Vallefoglia, è un investimento importante che crea lavoro, 150 dicono loro, 170 posti di lavoro, e dà una risposta soprattutto alle comunità più anziane. Sono tanti gli elementi che ci accomunano e che possono portare del benessere ai nostri cittadini.